Abbiamo ascoltato il territorio che in vista dell'Expo ci chiedeva un segnale forte proprio per rendere Milano più raggiungibile e promuovere complessivamente il nostro territorio regionale. Per questo a Piacenza e Parma abbiamo offerto questa possibilità di un treno regionale veloce che parte da Bologna e ovviamente tramite Parma e Piacenza arriva a Milano Centrale in orario per l'apertura dell'Expo dalle 10 del mattino e poi con più corse nella giornata può offrire un servizio sempre per Milano da Parma e Piacenza per poi rientrare a Bologna alla sera. Per noi questo ovviamente ha comportato uno stanziamento di bilancio che fa parte del pacchetto di risorse che abbiamo individuato per promuovere il nostro territorio in vista dell'Expo ma crediamo sia un segnale importante per una parte del territorio che è ovviamente molto a ridosso dell'Expo e vogliamo che abbia tutte le opportunità che questa grande occasione per l'Italia comporta.